Benvenuto alla presentazione della raccolta Checklist Supporto Organismo di Vigilanza di LGS 231-2001, lo strumento di supporto per realizzare in modo ancora più completo e veloce l'attività dell'Organismo di Vigilanza 231. La raccolta contiene le checklist aggiornate, per realizzare l'attività di audit, verifica e ispettiva dell'Organismo di Vigilanza 231. Tutte le checklist sono in formato MS Excel e MS Word. La raccolta Checklist per la gestione delle attività dell'Organismo di Vigilanza 231 offre diversi vantaggi significativi. Ecco 5 dei principali. Efficienza nel controllo. Le checklist permettono un controllo efficiente e sistematico di tutte le attività e i compiti richiesti. Questo garantisce che nessun aspetto importante venga trascurato e che tutte le procedure siano seguite in modo coerente. Facilità di monitoraggio e revisione. La raccolta Checklist rende più semplice per l'Organismo di Vigilanza monitorare e rivedere periodicamente i processi. Ogni elemento della lista può essere controllato per assicurare che sia stato eseguito correttamente, facilitando l'identificazione di eventuali aree di miglioramento. Conformità normativa. La struttura dettagliata fornita dalle checklist aiuta a garantire la conformità alle normative del DLGS 231-2001. Questo riduce il rischio di non conformità e potenziali sanzioni legali, assicurando che tutte le procedure siano in linea con i requisiti legali. Formazione e standardizzazione. Le checklist possono servire come strumenti formativi per i nuovi membri dell'organismo, fornendo una chiara comprensione delle procedure e delle responsabilità. Inoltre, aiutano a standardizzare i processi tra diversi membri del team, assicurando coerenza e qualità. Documentazione e tracciabilità. Utilizzando checklist strutturate, l'organismo di vigilanza può mantenere una documentazione accurata e dettagliata delle proprie attività. Questo non solo facilita eventuali auditi interni ed esterni, ma fornisce anche una tracciabilità preziosa in caso di indagini o revisioni legali. Questi vantaggi evidenziano come la raccolta checklist sia uno strumento fondamentale per una gestione efficace e conforme alle norme dell'organismo di vigilanza 231. Le checklist consentono di gestire tutta l'attività dell'ODV 231, dalla preparazione dell'audita alla verifica dei singoli reati e procedure, fino alla gestione complessiva dell'operatività dell'ODV. Partiamo con alcuni esempi dei contenuti. Questo è un estratto della checklist verifica reati presupposto, con l'elenco dei reati e la funzione di verifica in automatico. Questa è l'estratto della checklist verifica attività organismo di vigilanza, per l'autocontrollo della corretta operatività dell'ODV 231. Un'altra importante checklist presente nella raccolta checklist per ODV 231, è questa. La checklist verifica reati tributari, costituita da 46 punti di controllo. Un'altra checklist molto importante per l'organismo di vigilanza 231, presente in questo prodotto è la checklist adempimenti sicurezza del lavoro con 34 punti di verifica che abbracciano tutti gli aspetti sanzionabili su questo argomento. Tra le numerose checklist presenti nella raccolta checklist per l'organismo di vigilanza 231, è segnaliamo la checklist verifica adempimenti whistleblowing DLGS 24 del 2023 con ben 16 punti di controllo. La raccolta checklist ODV 231 è sempre aggiornata con le ultime novità sul DLGS 231-2001 e sull'operatività dell'organismo di vigilanza. Sul sito www.edirama.org trovi l'ultima versione, scaricabile immediatamente dopo il pagamento con carta di credito. Grazie per la tua attenzione. Puoi ordinare la raccolta checklist per l'organismo di vigilanza 231 su edirama.org e scaricarle subito nella tua email. Effettuando il pagamento con carta di credito, anche con il pagamento in tre rate mensili senza interessi, con Scalapei e Clanra. Per qualsiasi chiarimento contattaci ai recapiti che vedi sul video o in chat da edirama.org. A presto, ti aspettiamo tra gli oltre 7500 clienti edirama.